Grazie alla convenzione siglata tra Comune e Consiglio Notarile Distrettuale di Arezzo, i notai potranno accedere al servizio online attivato dal Comune per il rilascio dei certificati di anagrafe e Stato civile. Noi abbiamo chiesto al Comune di Arezzo di aiutarci in questa iniziativa, un'ulteriore iniziativa che noi facciamo per i cittadini, che quando vengono in uno studio notarile devono produrre tutta una serie di documentazione per poter divenire poi la stipula dell'atto. In questo caso non dovranno portare alcunché perché noi accediamo direttamente ai registri dello Stato civile, all'anagrafe del Comune di Arezzo per estrarre quei documenti indispensabili per dare garanzia ai cittadini, la certezza ai rapporti giuridici. Semplificare le procedure e migliorare i servizi attraverso la gestione telematica è obiettivo primario per il Comune di Arezzo, un impegno portato avanti per garantire una maggiore efficienza amministrativa. Già tutti i cittadini possono accedere al sito del Comune di Arezzo per ottenere i certificati per uso personale. Quando servono certificati per pratiche gestite da professionisti, notai in questo caso, sarà direttamente lo studio notarile a poter accedere a questi dati anagrafici. In seguito, questa è una prima sperimentazione con un software dedicato, in seguito sarà estesa anche ad altre categorie professionali.